Un provvedimento destinato a tutti i soggetti che si occupano di adolescenti, famiglie, scuola, servizi sociali, eccetera, per realizzare interventi concreti con l'obiettivo di promuovere benessere, socializzazione e stili di vita sani come deterrenti al disagio e all'isolamento. Oltre a prevenire e ridurre l'abbandono scolastico, la dipendenza da sostanze e gioco d'azzardo e ancora contrastare il bullismo e il cyberbullismo, sono alcuni degli obiettivi del piano pluriannale per l'adolescenza per il triennio 2018-2020, approvato in questi giorni dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna. Un piano costruito assieme al territorio con incontri che si sono svolti in tutte le province, al quale la Regione destinerà specifiche risorse. Avevamo promesso di occuparci con molta determinazione di bambini e adolescenti, sottolinea l'assessora al welfare Elisabetta Gualmini. Lo abbiamo fatto aumentando le risorse finanziarie e rivisitando le norme regionali per adeguarle ai nuovi contesti sociali e alle trasformazioni delle famiglie. Sono tre le priorità di intervento individuate dal provvedimento. Il dialogo, ovvero la capacità da parte degli adulti di ascoltare i ragazzi, la cittadinanza attiva che consiste nel coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle scelte che li riguardano e la cura dei ragazzi per favorirne il benessere fisico e relazionale. All'interno di questo progetto anche la Scuola per Genitori, un percorso formativo rivolto ai genitori e ad altri adulti di riferimento, organizzato in più giornate a tema. Nel triennio 2015-18 è stata di 2.000,5 milioni di euro la cifra complessiva stanziata dalla Regione per finanziare attività educative e sociali rivolte agli adolescenti.